Con l'avvicinarsi della fine dell'anno torno all'appello di EMPA per evitare i botti del 31 dicembre. L'associazione quest'anno a livello nazionale ha realizzato un video con i consigli rivolte ai proprietari di animali per diminuire l'impatto traumatico causato da petardi e fuochi d'artificio. Il 31 dicembre l'Italia sarà in zona rossa, ma non è detto che comunque non ci saranno botti che ogni anno causano la fuga e in alcuni casi anche la morte di animali domestici e selvatici. Anche perché scappando dai loro rifugi spesso gli animali si trovano in strada dove rischiano di venire investiti dai mezzi in transito. I fuochi d'artificio animale, il lockdown non ferma i botti e qui nel nostro sito, nel rifugio del cane faenza in Facebook ci sono i consigli di EMPA per proteggere i nostri animali. Naturalmente sono consigli e noi siamo molto dispiaciuti il fatto che siano comunque permessi anche se alcuni comuni li hanno vietati come il comune di Faenza, però mi dispiace che non si trovi una soluzione anche per questa vicinità. Comunque noi raccomandiamo di tenere il proprio animale con sé, di tenerlo in casa se è possibile, non lasciarlo fuori perché con dei rumori potrebbe scappare, scavalcare, recinti eccetera. Lasciarlo stare in casa, tranquillizzarlo e vedere un po' la situazione come va, semmai fare il volume della crisi. Poi ci sono consigli particolari, ci sono consigli per assicurare, ma quello vedete voi ecco. Essendo zona rossa, quest'anno l'Italia, il 31 dicembre, nessuno di noi dovrebbe uscire, quindi fino alle 10, quindi non vorrei che anticipassero i voti, quindi questa è l'unica paura che ci può essere, quindi consiglio di tenere comunque i vostri animali, i vostri temeri in casa perché ci può essere un problema di anticipo di orario effettivamente. Un bilancio di fine anno di EMPA in questo 2020 particolare in attesa del nuovo canile? Un bilancio direi, con l'on-down comunque anche quest'anno abbiamo dato in adozione più di 100 cani. Siamo felicissimi perché le persone, i nostri cittadini e i comuni anche in Mitrochi rispondono benissimo. Ci sono stati naturalmente maltrattamenti, abbandoni, ci sono stati in tribunale, abbiamo fatto il nostro dovere e stiamo monitorando un po' tutti. Anche con i gatti, nonostante non abbiamo gattile, avremo un piccolo ambulatorio, abbiamo dato via quasi 100 gatti anche in adozione. Quindi il nostro lavoro di volontari naturalmente siamo molto soddisfatti e siamo soddisfatti che i cittadini rispondano, ci vogliono bene, ci stanno vicino.